Buongiorno, buona domenica, grazie per essere qui, alle 10 di mattina di domenica è sempre un impegno e apprezziamo, alle 11 e mezza di mattina è vero, io sono con altro fuso orario qui sempre prestissimo, a quest'ora è sempre apprezzabile che veniate qua ad ascoltarci e quindi io do inizio, innanzitutto vi do il benvenuto a questo incontro di Biennale Tecnologia e passo subito a introdurre il tema, staremo insieme per un'oretta, quindi non prenderemo molto del vostro tempo e spero, se questo ci permetterà, spero di avere qualche domanda alla fine se a voi interessa farle. Quindi, come avrete già letto, il tema del nostro incontro è decisamente ampio perché l'abbiamo chiamato pratiche artistiche tra scienza e tecnologia e come è chiaro impatta su un binomio che è sempre stato ampiamente dibattuto, quello fra arte e scienza è un binomio che nel corso dei decenni, ma naturalmente si potrebbe pensare che questo binomio è molto più antico degli ultimi decenni, come potete immaginare, ma certamente nel corso dei decenni ha sollecitato molto sia la teoria sia la pratica. Ed è proprio su questo crinale, cioè del rapporto tra teoria e pratica che proviamo a iniziare a discutere. E chiedo quindi a Pierluigi Capucci di introdurci a questa relazione e chi meglio di lui probabilmente lo conoscerete perché non posso dire che è il primo perché non ho i dati per farlo, ma certamente in Italia è stato uno dei primi che si è occupato di questo binomio con una vasta serie di attività. Ricordo la sua rivista Noema che ha pubblicato moltissimo su questo, Pierluigi insegna all'Accademia di Belle Arti di Urbino e di Reggio Calabria, è docente anche in altre istituzioni e negli anni ha elaborato uno sguardo che secondo me è tra i più completi e complessi sull'argomento e pertanto lascio a te la parola. Si sente, sì. Allora grazie di questa bellissima introduzione Antonio e oltre a ringraziare te per l'introduzione e per l'invito ringrazio anche Vanessa e Tatiana per essere qui, insomma perché in qualche modo mi hanno chiesto di introdurre questo incontro. Ecco, possiamo mandare le diapositive, grazie. Ecco, diciamo il rapporto tra l'arte senza come ha detto Antonio è un rapporto che viene molto di lontano quindi non staremo ad analizzarne le radici storiche. Quello che mi interessa di questa relazione è vedere come poi si sono costruiti dei ponti in epoca recente. Dal punto di vista umanistico, forse sono cose che conoscete già ma c'è l'approccio, scusate mi alzo in piedi così faccio anche un po' più di scena insomma. Questi sono due approcci che conoscete, chi è dentro l'ambito della relazione tra arte e scienza, mi riconosce molto bene, l'apporto di Marsha McLuhan che dice l'artista è l'uomo che in qualunque campo, scientifico e umanistico, quindi non fa distinzione tra questi due settori, scientifico e umanistico, afferra le implicazioni del proprio tempo, è la persona della consapevolezza integrale. Cioè in altri termini vede la figura dell'artista come dal punto di vista della sua funzione sociale all'interno della società come colui o colei che capisce per primo quello che è l'impatto delle tecnologie e delle discipline scientifiche non si fa incantare ed è in grado di rispondere anche criticamente. Sempre in campo umanistico Roy Escott, Roy Escott è ancora, nonostante abbia superato l'ottantina di anni, molto attivo soprattutto con il dottorato di ricerca internazionale che porta avanti, di cui ho avuto l'onore per quattro anni di essere il direttore degli studi del nodo italiano, che durante una conferenza ha detto non bisogna chiedersi quello che la scienza può fare per l'arte, che è una posizione abbastanza ovvia, ma quello che l'arte può fare per la scienza. Questo per quanto riguarda la dimensione umanistica. Dal punto di vista scientifico, da qualche anno ci sono, soprattutto in ambito anglosassone, ci sono degli approcci che sono appunto hard, discipline come la matematica, la fisica, l'ingegneria eccetera, che hanno inserito all'interno del loro curriculum anche l'arte. e quindi l'approccio iniziale, il cui acronimo è STEM, quindi Science Technology Engineering Mathematics diventa STEAM, a cui viene aggiunta appunto la dimensione dell'arte. Qui ci sono alcune pubblicazioni, tra i primi che si sono occupati di questo rapporto c'è Wilson, con questo testo, lui parla di consilience, cioè concordanza, e anche nel nostro paese, anche in Italia, a partire dal 2015, questa dimensione è stata presa in carico dal governo italiano. Nel nostro piccolo abbiamo supportato una ricerca che ha fatto una giovane studiosa pugliese di Lecce che si chiama Giada Totaro, che con questo progetto ha vinto un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ipartimento pari opportunità, e oltre appunto a questo workshop ha anche realizzato questa pubblicazione. Come noi abbiamo supportato sia la parte, diciamo così, didattica con il nostro learning system, che abbiamo attivo dal 2002, quindi siamo, e che abbiamo offerto, quando non, non, molte università che non ce l'avevano gratuitamente a diversi corsi, circa 120 dal 2002, e anche, naturalmente, la pubblicazione di questo e-book bilingue. Ecco, uno dei concetti fondamentali alla base del rapporto arte-scienza è quello di transdisciplinarietà. Il concetto di transdisciplinarietà è un concetto, diciamo, che è stato recuperato, utilizzato di recente, perché molto spesso lo si confonde o si usano termini analoghi come multidisciplinarietà o interdisciplinarietà. Questo concetto è stato formalizzato, quindi questo rapporto tra discipline è stato formalizzato in ambito scientifico, cioè in ambito didattico, e tra i primi a parlare di transdisciplinarietà, c'è Jean Piaget, che dal 1970 comincia a vedere, insomma, questo rapporto tra discipline, ma dal punto di vista, diciamo così, più formale è stato introdotto da questa ricerca di Choi e Peck, che in alto, vedete in alta a sinistra, il grafico, e che poi è stato reinterpretato da Alberto Dettoni. Alberto Dettoni è stato rettore dell'Università di Udine ed è uno dei massimi esperti di complessità nel nostro paese che lo ha, diciamo, tradotto in questa maniera. Quindi, mentre nella multidisciplinarietà le discipline rimangono se stesse, cioè collaborano rimanendo se stesse, nella interdisciplinarietà c'è una intersezione tra queste, quindi un territorio comune, mentre nella transdisciplinarietà queste discipline si fondono in qualche modo per dare origine a qualcosa di nuovo. E la metafora alimentare, che per me è bellissima, che il professor Dettoni ha così mostrato, è l'insalata, nell'insalata ogni ingrediente rimane a sé, nella fonduta c'è un'intersezione, cioè alcuni ingredienti in qualche modo assorbono altri ingredienti, mettene nella torta, tutto finisce in qualcosa che è assolutamente nuovo. Ecco, in ambito internazionale ci sono moltissime esperienze sul rapporto tra scienza e arte, io qui ne ho riproposte, ne ho proposte qualcuna, il progetto STARS, di cui abbiamo la fortuna di avere la vincitrice, Vanessa, del premio STARS 2021, io ho fatto parte della giuria del premio 2022, di cui magari vi parlo successivamente, qui ce ne sono altri, alcuni altri progetti che in qualche modo mi hanno visto coinvolto, l'artici residenza al CERN a Ginevra, il programma Shai Art del centro di ricerca di Ispra e per l'aldifuori dell'Europa, la rivista Leonardo, che penso che conosciamo tutti, di cui nel 2018 si è festeggiato il cinquantenario sulle relazioni tra arte e scienza e anche il programma Arshai Salon canadese, curato da Roberta Buiani, italiana ma che dal 2020 insegna in Canada, che ha un rapporto con il Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, che è quell'istituto che annualmente conferisce la Fields Medal per la matematica, che è di fatto il Nobel per i matematici. Ecco, per quanto riguarda il programma Shai Scienza e Arte, Shai Art Society della Commissione Europea, di cui sono consulente dal 2018, è interessante parlarne perché in Europa ci sono alcuni centri di ricerca, cinque o sei centri di ricerca che sono finanziati dalla Commissione Europea e che al loro interno hanno qualche centinaio di scienziati. Perché esistono questi centri di ricerca? Quando la Commissione Europea deve emettere delle leggi o delle normative, sono dei politici, quindi non sono degli esperti, non sono degli scienziati e non possono ovviamente appoggiarsi al parere delle esende private, perché le esende private, come dovete capire, hanno degli interessi. Dunque, conseguentemente, ci sono questi centri di ricerca che fanno ricerca su argomenti molto vari dal cambiamento climatico, l'inquinamento, ai terremoti, all'alimentazione, eccetera, che producono ricerca in funzione delle leggi, della legislazione e della Commissione. Il secondo centro più grande è a Ispra, si trova in Italia, a Ispra, sul Lago Maggiore, e all'interno di questo centro di ricerca è nato nel 2016-2017, si chiamano Joint Research Center, è nato il programma Scienza e Arte, Sci-Art. Questo programma ogni due anni emette un bando internazionale per degli artisti, questi artisti presentano dei progetti, c'è una summer school estiva in cui questi progetti si confrontano con gli scienziati, c'è una selezione che viene fatta da parte della Commissione Europea e i progetti che restano vengono poi prodotti, quindi finanziati, realizzati e mostrati all'interno di alcuni dei centri più importanti che appunto in ambito europeo. L'ultimo bando è quello di Naturarchy, che vedete in basso a sinistra, Naturarchy, Naturarchia sarebbe, quindi è ovviamente centrato sulla dimensione ecologica, insomma sul rapporto con la natura, eccetera, eccetera. hanno risposto, mi dicevano, circa 200 artisti da tutto il mondo, ne sono stati selezionati 20. Questi 20 artisti sono stati messi in contatto con degli scienziati per sviluppare questi progetti che poi appunto tra due anni verranno mostrati. Tra i progetti che noi abbiamo fatto come Noema con il centro di ricerca Shai Art c'è questo che è una pubblicazione che raccoglie circa 45 autori e di questa pubblicazione oltre al mio testo c'è anche, io ho fatto parte dei reviewers e ecco, la ritengo importante perché su questo tema dell'intelligenza artificiale la Commissione Europea, che ovviamente dovrà emettere tutta una serie di leggi di finanziamenti a livello mondiale ci sono nazioni come la Cina, gli Stati Uniti, in Europa, la Francia che investono moltissimo su questo, prima di fare questi investimenti ha voluto ascoltare anche il parere delle humanities e questo a me sembra una cosa estremamente interessante perché l'intelligenza artificiale impatta ovviamente nella vita di tutti i giorni nella nostra vita, lo sta già facendo, quindi non ascoltiamo soltanto il parere degli scienziati e dei technologi ma anche degli umanisti. Tre minuti, allora con tre minuti questo lo saltiamo, saltiamo anche questo vi presento l'ultimo lavoro, avevo preparato tre esempi questo è un lavoro di un artista australiano che si chiama Guy Ben-Herry che in qualche modo produce una sorta di cervello estraneo, come fa e naturalmente questo è un lavoro di ricerca, dipende dal lavoro di ricerca realizzato insieme a appunto technology, ingegneri ma anche biologi attraverso una biopsia, qui si vede meglio lo schema che ho realizzato per mostrarlo una biopsia, qui ha prelevato alcune cellule della sua pelle attraverso delle tecnologie IPS le ha fatte diventare cellule staminali quindi cellule pluripotenti, come si dice da queste cellule pluripotenti le ha fatte evolvere all'interno come cellule neurali quindi come neuroni e ha poi messo questi neuroni all'interno di queste colture che li hanno alimentati e circa centomila neuroni che è una quantità ridicola rispetto al numero di neuroni che sono all'interno del nostro cervello ma poi con una sorta di interfaccia cerebrale ha fatto in modo che questi neuroni questa specie di cervello esterno sia in grado di rispondere a degli stimoli e questi stimoli sono dei musicisti, lui dice io ho sempre sognato di diventare una rock star ma non ci sono mai riuscito e con questa sorta di cervello esterno la musica prodotta da questi musicisti finisce come stimolazioni queste cellule cerebrali che rispondono e rispondono attivando dei sintetizzatori analogici perché analogici? Perché secondo Guy Ben-Henry il funzionamento del cervello è sostanzialmente analogico e a cui sono collegati degli speaker in uno spazio ampio in maniera che camminando all'interno di questo spazio è un po' come se noi camminassimo all'interno delle pareti di questo cervello esterno qual è il potenziale delle opere d'arte che utilizzano tecnologie biologiche e robotiche per interrogarsi sulla comprensione della vita sul significato della materialità del corpo umano queste sono domande, questa è una a cui questa relazione tra appunto scienze e arte cerca di rispondere grazie 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 Pierluigi l'introduzione come avete notato il suo schema apre questioni molto complesse e articolate perché infatti tu hai coperto sia quanto la politica, l'industria, gli investimenti contemporanei stanno intervenendo su questo binomio sempre di più e quindi c'è bisogno di un mondo della ricerca, della produzione, della cultura capace di intercettare ma anche guidare quelle fonti di finanziamento questo crea fra l'altro una competizione interna per esempio ai paesi europei dove magari qualcuno, qualche paese un po' più pronto a rispondere o a guidare questi interventi e ne godrà dei frutti speriamo che l'Italia anche grazie al tuo lavoro devo dire che sei veramente molto ferrato su questo non si è lasciata indietro ma nell'ultima nell'ultima parte del suo intervento che ho dovuto chiedere di stringere è sempre spiacevole farlo ma nell'ultima parte ci hai portato verso il lavoro degli artisti in che modo quindi la riflessione arte e scienza che come abbiamo visto è interseca questioni culturali e politiche diventa un elemento un linguaggio o un tema da dibattere all'interno della pratica artistica e questo mi dà la possibilità di dare la parola a Vanessa Vozzo confesso che ho difficoltà a riassumere il lavoro e l'attività di Vanessa uno perché la conosco la apprezzo la seguo da dieci anni quindi conosco troppo quello che ha fatto per sintetizzarlo Vanessa non ti dispiace se io dico che tu sei un artista che lavora con le tecnologie e ultimamente si è dedicata anche al lavoro con VR ma sta sviluppando naturalmente negli anni ha cominciato anche a fare attività didattica su questo e ha lavorato all'Accademia di Belle Arti al Politecnico a Milano il suo lavoro ha sempre coniato l'indagine sui linguaggi con il senso lo ricordo fin dall'inizio l'importanza di dare senso a questi linguaggi e su questo ti lascio la parola grazie Antonio e vi chiedo solo se potete mettere le slide quindi niente mi ero preparata un'autopresentazione che taglio a questo punto e acceno solo al fatto che io sono qua sono anche docente appunto a contratto in varie università ma sono qua soprattutto come media artist chiamata in causa perché ho vinto il premio starts for social good nel 2021 l'anno scorso sono stata premiata proprio qua all'OGR infatti è molto emozionante ritornare qua e io mi occupo giusto per approfondire un attimo perché ho vinto il premio starts perché da un po' di anni mi occupo di arte e scienza e faccio sperimentazione e ricerca in questo campo e metto insieme arte e scienza con nuove forme di documentario quindi di narrative che hanno a che fare in qualche modo con il reale quindi queste tre cose mi permettono di insieme alle nuove tecnologie all'utilizzo di vari media dalla realtà virtuale XR interactive media eccetera mi permettono appunto di avere di espandermi forse certe volte anche troppo perché non si riesce a darmi una definizione aspettate che vado con questo e qui in realtà in questo contesto vorrei semplicemente approfondire questo lavoro che ha vinto il premio starts quindi andare un po' più in verticale per far capire per far capire uno dei possibili processi creativi nel campo dell'arte e scienza e quindi comincio da questo lavoro che si intitola Photosynthetic Me e vi mostro questo breve video promo era il vecchio promo che si intitola La roba che si illumina è il gene PSBO che viene estratto dalle alghe e che adesso andiamo a ritagliare con un discurito. La roba che si illumina la roba che si illumina. Ecco, questo lavoro in realtà, accenno a questo breve fatto, nasce da una mia esigenza personale, da una mia urgenza perché qualche anno fa ho scoperto di essere positiva a una mutazione genetica abbastanza seria. E questo ha fatto scaturire in me alcune domande, nel senso adesso tralasciando tutta la questione mia personale genetica. Dico questa cosa più che altro per far capire la necessità, l'urgenza anche che sta dietro a questo lavoro, che poi incrocia la scienza, che poi diventa universale, ma che comunque parte da una mia necessità interiore, molto semplicemente. E quindi ho iniziato a pormi delle domande, e le domande erano queste. E se tornassi indietro nel tempo e potessi modificare il mio patrimonio genetico e soprattutto quello di mia figlia, cosa farei? Cosa farei se potessi diventare qualcosa di migliore, di puro e perfetto? E' corretto alterare un percorso evolutivo per cercare di autoperfezionarsi, di non ricorrere più a interventi chirurgici, farmaci, compensazioni mediche? Quali sono i limiti e chi li decide? Questa domanda è cruciale alla fine di tutto questo. E quindi ho iniziato a fare una piccola ricerca mia personale in questo campo, nata appunto da questa esigenza. E ho incontrato questo strano animale marino, una lumaca, una lumaca marina che può attivare la fotosintesi mangiando una sola volta nella sua vita. E quindi mi sono soffermata su questo. Stupenda, bellissima. Mi ha molto incuriosito, vedo dai volti anche un po' tutti quanti. Mi ha molto incuriosito e ho cercato di andare un po' più a fondo. Perché? Per come? E ho capito, c'erano strane parole tipo trasferimento genetico orizzontale. Quindi alla fine questa lumaca ruba i geni da un'alga, un gene in particolare che si chiama PSBO e in un percorso evolutivo è in grado di effettuare la fotosintesi. Quindi diciamo che usa questo gene per il suo bene, lo ruba e per il suo bene va avanti e è autosufficiente per tutta la sua vita, mangiando una sola volta. Questa cosa mi ha molto colpito, ma gli articoli che leggevo li capivo abbastanza poco. In questi articoli c'erano termini tipo CRISPR-Cas9 e dicevo ma che cos'è questa CRISPR? Una tecnica di editing genomico e qui ho iniziato ad avere alcune difficoltà perché è molto difficile da capire. Tutta la terminologia scientifica, se sei un artista, se vieni dal mondo dell'arte, soprattutto nel campo delle biotecnologie. Poi vedevo cose tipo queste. Diodin, un gruppo che vende kit di editing genomico basato su questa nuova tecnica, la CRISPR-Cas9. Un gruppo abbastanza folle, molto conosciuto di biohacker negli Stati Uniti e anche loro non riuscivo a capire ma com'è possibile vendere un kit dove tu in due giorni impari a editare il genoma attraverso questa nuova tecnica. Una tecnica molto più democratica delle OGM precedenti, molto più all'avanguardia e quindi molto più semplice, accessibile rispetto alle tecniche precedenti. E anche questo mi era abbastanza oscuro. Pertanto ho deciso di aprirmi molto di più a quella che era la vera scienza e ho contattato questo amico, un biotecnologo molto aperto, molto in gamba, anche un po' artista, divulgatore. Abbiamo iniziato a parlare dell'Elisia, della mia problematica e abbiamo deciso di lavorare insieme, insieme a questi altri due personaggi, un fotografo Andrea Macchia, il biotecnologo si chiama Enzo Guarnieri, Andrea Macchia e Alessia Gervasone. Insieme abbiamo creato questo lavoro, Photosynthetic Me, che alla fine ha poco a che fare forse con la mia primaria urgenza, ma racconta la possibilità, l'incredibile possibilità umana di potersi automodificare, di poter automodificare i propri geni, per for good, diciamo, per rendersi fotosintetici. Quindi ho immaginato un atto democratico di massa che potesse far diventare me e tutti gli altri fotosintetici, attraverso una modificazione genetica che sulla carta è possibile. E quindi abbiamo creato questa crema, una crema e qui passiamo uno step superiore perché oltre a Enzo abbiamo coinvolto il centro di biotecnologie molecolari di Torino e la discussione è passata veramente a un livello superiore, etica, bioetica, il senso della vita, che cosa vuol dire la perfezione, la perfezione dovuta a una modificazione e chi decide questa perfezione, no? Quindi tutti i discorsi si sono spostati sulla vita e su un livello più alto di bioetica, quindi con loro. E con loro abbiamo deciso di realizzare una parte dell'installazione che poi diventa Fotosynthetic.me che è un piccolo documentario dove realizziamo all'interno del laboratorio una crema speciale, una crema basata sulle qualità dell'elisia clorotica, quindi basata sulla sua capacità di rubare i geni, ma noi utilizziamo provocatoriamente la CRISPR e speculativamente la CRISPR per immettere il genere di PSBO in questa crema e potenzialmente rendermi fotosintetica. Quindi in questo lavoro tutto un po' si mescola, un approccio scientifico, ma anche documentaristico, narrativo documentaristico legato al reale e a raccontare in maniera diversa il reale, in maniera molto più coinvolgente, partecipata, transmediale appunto, e anche un po' in parte crossmediale, cioè un racconto che si svolge su più media, ma anche che si ripete su più media. Vi faccio vedere solo brevemente più o meno come funziona. Grazie a tutti. 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 Cosa vi? Qual è l'esperienza che propongo? Se propongo un'esperienza o è un processo quello che metto in atto? Mi permetto di dire che credo che le cose che ho visto di Vanessa riescono a trovare sempre un bilanciamento molto utile fra l'espressione di un processo che porta di riflessione e di ricerca e anche l'esperienza che viene consegnata a chi quel processo lo condivide. Ma questo secondo me interviene, questo collassare tra processo e opera, che è un discorso anche abbastanza non certo di questo decennio, però interviene su un altro punto, interviene nella prospettiva della formazione. Se è vero che bisogna intervenire su dei processi decisionali e anche di ricezione e di finanziamento, se è vero che c'è una nuova pratica artistica che deve essere decodificata, la formazione gioca un ruolo naturalmente fondamentale. Ed è su questo che naturalmente chiamo a dirci la sua Tatiana Mazzali, che è docente oramai da tanti anni al Politecnico, proviene ed è incardinata all'interno di un settore che è quello della sociologia e della comunicazione, ma è riuscita sempre a muoversi in modo veramente, in questo caso, interdisciplinare tra ambiti differenti e ha un'esperienza diretta che in parte condividiamo nella formazione in questo ambito. E quindi ti lascio la parola. Grazie Antonio, chiedo gentilmente alla regia di mandare anche le mie slide, così mi appoggio anch'io a qualche immagine. Grazie mille, sì in realtà dovete sapere che qua siamo un gruppo di carbonari, cioè Antonio, io e Vanessa, io parlo, parlo di una roba che condividiamo da tempo in memore e vi parlo di un progetto, officine sintetiche, ma prima di parlarvene volevo riprendere un filo che tiene assieme le parole di Pierluigi e di Vanessa e lo porto a casa mia, quindi dentro l'università, perché loro non l'hanno esplicitato, io lo esplicito e lo prendo e lo porto a casa mia. Nella relazione tra arte e scienza, che poi adesso io declinerò anche un po' di più nel rapporto tra arte e tecnologia, innovazione tecnologica, giusto perché siamo le OGR, giusto perché lavoro Politecnico di Torino, ma insomma non solo per quello, è chiaro che c'è un'idea di estensione, di vita estesa, un'estensione tra biologico e macchinico, tra naturale e artificiale, come abbiamo visto nel lavoro di Vanessa, un'estensione tra reale e virtuale, se vogliamo guardarlo più nel campo dei media, che poi è il campo di cui mi occupo un po' più io, insomma la contemporaneità ci spinge a ragionare ma a vivere esperienze di vita estesa. Se è così, per prepararsi, anche l'università deve essere un'università estesa, quindi porto a casa mia questo concetto di estensione e vi racconto come questa visione di estensione ha dato origine a un'idea di formazione particolare che si chiama Officine Sintetiche. Che cos'è Officine Sintetiche? Officine Sintetiche è una piattaforma per la creatività digitale che sviluppa progetti, contenuti, opere di new media art, adesso forse non lo chiameremmo più new media, poi dobbiamo forse ripensarle, ma in ogni caso è una piattaforma e la parola piattaforma è scelta oculatamente, che nasce dalle università di questa città, perché nasce da Antonio e quindi all'università di Torino, da Tatiana e quindi a poi il tecnico di Torino, e ma non bastavamo mica, perché questa storia qua non la si affronta stando comodamente seduti a casa propria e quindi ci aggiungiamo Vanessa, i tre carbonari poi negli anni sviluppano una rete di attori, persone, esperti, estremamente composita, la ricchezza di Officine Sintetiche è la sua rete conoscitiva e che cosa facciamo dentro Officine Sintetiche? Sviluppiamo progetti creativi, partendo da un'idea molto precisa, che è quella di formazione. Allora, oggi l'università ha un compito, ce lo ha da sempre, quello di sviluppare competenze, ma se dobbiamo sviluppare competenze che rispondano alla complessità del contemporaneo e abbiamo quest'idea che l'arte abbia un ruolo fondamentale, l'università deve mettersi molto in ascolto. Quindi Officine Sintetiche è una piattaforma di dialogo tra attori diversi, dove noi negli anni abbiamo sempre messo assieme studenti, ricercatori, sperimentatori e artisti e anche dei partner che poi hanno dato, scusate sono andato troppo avanti, hanno dato occasione ai nostri progetti nati all'interno di workshop, di percorsi formativi, eccetera, di confrontarsi con il pubblico. Quindi i cardini di questo progetto formativo, produttivo e di indagine del rapporto tra arte e tecnologia, perché Officine Sintetiche si occupa da sempre di questo, sono tre. Uno, il primo concetto cardine è che l'arte sia un mezzo, una modalità e un ambiente necessario per rendere l'innovazione un motore di sviluppo individuale e sociale, quindi che sia parte della questione, che abbia un ruolo di responsabilità molto grande. Il secondo concetto cardine di Officine Sintetiche è, porta pazienza per Luigi, ma è l'interdisciplinarietà, nel senso che la trandisciplinarietà non posso dire io se l'abbiamo raggiunta, ma certamente quello che siamo riusciti negli anni a fare è fare dei processi interdisciplinari. Alla complessità, l'hai già detto tu per Luigi, non si risponde con le monodiscipline, si risponde con la capacità di mettere in dialogo competenze estremamente anche specifiche e lasciatemi dire, la parola interdisciplinarietà è una cosa che a casa nostra, mia e di Antonio, è molto difficile da praticare. Le università, soprattutto italiane, fanno molta fatica. Fanno molto meno fatica gli artisti, fanno molto meno fatica i paesi europei, dove c'è un'apertura tra il rapporto tra discipline diverso che nel nostro paese. Perché è così faticoso da noi? Faccio un po' l'avvocato del diavolo, scusate. Perché c'è un sistema che non aiuta l'interdisciplinarietà nel nostro paese ed è il sistema che seleziona noi, me e Antonio, che seleziona i ricercatori che insegnano nell'università. Perché questo sistema dice in Italia che io devo essere sociologa della cultura e quindi non mi devo occupare di arte. Che dice ad Antonio che deve essere esperto di storia del teatro ottocentesco e quindi mica si può occupare di digitale, ma forse mai. Lo dico in modo provocatorio, però è importante dirselo perché come ha detto Pierluigi e come ha ribadito Antonio, la costruzione dei ponti di dialogo mica è solo una cosa in cui bisogna credere. Dal credere bisogna passare dei fatti. Per passare dei fatti c'è bisogno di politiche, c'è bisogno di istituzioni che li supportano e poi ci deve essere la domanda e l'offerta. Ma ho detto proprio in termini un po' di mercato. Tutte queste parti devono esserci. Insomma per dirvi che i carbonari che siamo stati effettivamente all'inizio è stata dura, però adesso siccome il mondo gira così anche le università incominciano a farsi furbe ed effettivamente il progetto Ficcine Sintetiche è uscito dal suo ambito carbonaro e ha preso il volo. Il terzo principio cardine di questo progetto è il metodo. Per fare processi, progetti interdisciplinari ci vuole un certo metodo. Il nostro è stato sempre quello di tenere assieme in un certo modo queste tre gambe di cui vi ho detto prima, la formazione, la sperimentazione e la ricerca, perché nell'ambito arte e scienza non è che stiamo parlando di prendere qualcosa di assodato e di applicarlo, ma stiamo parlando di costruire della ricerca. Bene, per costruire questa ricerca si formano le competenze e infine, molto umilmente, ci si confronta con dei pubblici, perché arte e scienza, arte e tecnologia è un'arte interattiva dove il pubblico non sta più seduto e quindi il pubblico è necessario. Ecco, queste tre gambe sono sempre state un po' alla base di tutti i progetti che abbiamo seguito negli anni. Che tipo di formazione però è adatta a sviluppare questo? È una formazione dove gli attori invertono i ruoli. Non esiste più il docente e il discente. Esistono dei collaboratori che umilmente costruiscono degli step forward nella conoscenza. Quindi io, Antonio, Vanessa, tutti quanti scendiamo, molto volentieri scendiamo dalla nostra cattedra e altrettanto molto volentieri gli studenti che coinvolgiamo attraverso Call, quindi sono tutte persone che scelgono di seguire i nostri progetti, prendono coraggio di dire la loro in modo più consistente rispetto a quella che un'aula classica di Ateneo di solito gli permette di fare. E questo switch avviene attraverso una pratica. Di nuovo, non sono dei principi astratti. Avviene questo non solo perché lo scegliamo, ma perché facciamo delle cose dove si fa così e facendolo si impara tutti quanti. Così detto learning by doing, project based, insomma queste parole un po' inglesi che non mi piacciono tanto. Questi sono i tre principi cardine. Bene, come sono diventati storia nei progetti. Adesso vi racconto qualcosa del percorso storico per arrivare poi a una chiusura del cerchio. Perché... Ho pochissimo. Infatti lo sarò, andrò proprio molto veloce. Però è importante perché il percorso arte-scienza ha avuto anche nel dibattito e nelle pratiche un'evoluzione di concetti, di tecnologie e oggi siamo alla frontiera del biohacking, che sembra la frontiera un po' più spinta. Ma per arrivare lì ci sono dei concetti che noi abbiamo un po' studiato negli anni. Gli esordi, ad esempio, sono stati gli esordi delle performing arts. Ah, una cosa che non ho detto è che in officine sintetiche tra i vari attori c'è sempre un artista o più artisti, ovviamente. Che però non sono gli artisti che arrivano con il loro progetto e gli altri eseguono. No. Qua, Marseille Antunes Roca, fondatore della Furia del Baos, ci ha accompagnato per un po' di anni. Questo era ipermembrana. Tra l'altro l'ho voluto mettere perché siamo alle OGR prima che le OGR fossero questo che voi vedete. Prima erano questo. un ammasso di bellissime rovine industriali. Abbiamo continuato a lavorare con Marseille quindi con l'idea di teatro tecnologico dove c'era ancora la dimensione del palcoscenico, dove c'era ancora un'idea di drammaturgia ma era una drammaturgia totalmente scomposta perché era una drammaturgia interattiva, multimediale. Qua è Cotrone dove c'è questa interfaccia fisica che coinvolgeva il pubblico in un immaginario grottesco che è tipico di Marseille Antunes Roca. I primi anni sono stati gli anni di indagine del teatro e della danza quindi eravamo ancora dentro un contenitore noto. Poi ci siamo spostati nell'ambito delle installazioni quindi dalle performing arts all'arte contemporanea. è arrivato Eliza ID, un progetto Nomadi, un progetto di installazione interattiva multimediale. Vedete sempre che le immagini sono importanti per noi, abbiamo sempre lavorato sui media con le immagini mediali portandole dentro però a progetti di interattività con il pubblico e di costruzione, di co-costruzione di contenuti insieme al pubblico. Nomadi quindi ci ha spostato più nell'ambito dell'arte contemporanea e poi salto proprio di un po' di anni arriviamo alla terza parola chiave di questo percorso che è la parola immersività. Cioè dall'interattività noi ci siamo più spostati in un'idea di realtà mista a cui accennava anche Vanessa. Cioè siamo usciti dal palcoscenico, siamo andati nelle gallerie e poi non ci bastava più perché arte e scienza, arte e tecnologia ormai ci tiene assieme nelle nostre vite facendoci percorrere ambienti e realtà diverse dalla realtà alla virtualità, dalla naturalità all'artificialità. Con Apnea, curato da Vanessa, affrontiamo il tema dell'immersività in un progetto molto complesso che parte da un fatto anche molto tragico che succede che affonda l'ennesima nave di migranti a Lampedusa del 3 ottobre del 2013 Vanessa insieme a studenti e politecni dell'università costruiscono questa installazione interattiva creando un video nei fondali marini di Lampedusa, un video immersivo che poi il pubblico può vedere in un percorso a step di immersione che non è un'immersione documentaristica nei fatti del 3 ottobre ma è una, come ha chiamato Vanessa, una mappa di sentimenti e paure del sentirsi sott'acqua. Questo è l'obiettivo di questa installazione e lo fa attraverso le tecnologie immersive. Quindi ci sono dei visori che alla fine gli spettatori indossano. Quest'indagine però del entrare dentro un mondo virtuale poi continua riportando fuori il pubblico e facendolo ragionare su appunto quest'idea di realtà estesa e allora chiamiamo uno dei massimi esperti della realtà estesa in campo artistico mediale che sono i Blast Theory e Matt Adams che viene qua, ci accompagna per un po' di anni in progetti interessantissimi e porta i nostri studenti dentro un terreno di indagine che è quello della realtà mista o della realtà estesa che loro conoscono molto più di noi della nostra generazione perché loro la praticano voglio dire che questa estensione però non è pacifica a volte è molto sofferta malata persino lo abbiamo anche scoperto con il lockdown quanto obbligarci a scusate a vivere realtà parallele insieme quelle della virtualità e della realtà a volte ci porta degli scompensi individuali sociali ad esempio il progetto Missing Out curato da Vanessa indaga la paura del sentirsi esclusi da questi mondi virtuali la FOMO la Fear of Missing Out in un progetto molto complesso sia dal punto di vista tecnologico che della scrittura che dell'esperienza del pubblico il pubblico viene portato in un percorso dove prima in un ambiente reale poi in un'immagine 2D e infine in un'immagine virtuale in cui viene toccato da altri corpi insomma quello che si indaga negli ultimi anni con officine sintetiche con toni chiaroscuri è questo tema della difficoltà anche ma anche della possibilità di gestire una realtà estesa per le persone nella loro singolarità ma anche nella loro socialità chiudo questo tema della realtà estesa e dell'essere qualcos'altro è un tema che poi abbiamo ospitato i Biennard Orlab in un bellissimo progetto questi sono i nostri studenti che hanno fatto un lavoro di scrittura e di esperienza per il pubblico molto interessante di cui non vi riesco a parlare chiudo però dicendo questo era appunto il penultimo progetto siamo nati sul palcoscenico e torniamo sul palcoscenico nel 2022 grazie alla collaborazione col Balletto Teatro Torino che si apre le tecnologie della virtualità e decide di portare un'esperienza che tenga insieme i suoi danzatori e il pubblico della danza immaginatevi quanto di più tradizionale possa esserci in un ambito così in realtà non è vero il Balletto Teatro Torino sperimenta da molti anni ma decide di aprire un'esperienza di immersività e di virtualità per il pubblico e per i suoi danzatori e quindi nasce il progetto Tiny Upper Case in cui ovviamente c'è sempre lo zampino di Vanessa dentro e torniamo a un palcoscenico che però è un palcoscenico totalmente diverso è un palcoscenico che è uscito dalle sue mura e che è entrato in quest'idea di estensione degli ambienti e delle esperienze chiudo qua grazie Tatiana grazie allora ci siamo dati abbiamo raggiunto l'ora di tempo che c'eravamo dati quindi siamo nei tempi Tatiana devo dire che l'idea di estensione mi piace mi piace molto come avete capito io qua faccio da moderatore ma sono decisamente parte in causa quindi quasi mi commuovo a vedere la storia dal 2007 adesso che abbiamo accumulato vorrei però subito dare vedere se ci sono questioni o domande che provengono da voi credo che abbiamo ancora qualche minuto di tempo chiedo alla regia quindi se ci sono domande questioni più una questione che è una domanda relativamente appunto al ruolo del teatro in quanto insieme di linguaggi differenti lei parlava di un differente approccio del mettere in scena appunto un progetto che implicasse l'uso di nuove tecnologie multimediali ecco rispetto a quello che è il mio punto di vista personale ritengo che il teatro in sé come forma rappresentativa contenga di per sé una multimedialità parliamo appunto di discipline storicamente riconosciute inquadrate attraverso caratteristiche diciamo specifiche come il media visivo della scenografia o quello coreutico della danza o quello musicale e ancora tanti altri quindi forse più non so puntualizzazione in merito alla definizione lessicale che viene attribuita a queste nuove forme queste lecite nuove forme di sperimentazione all'interno di un contesto come quello della scatola scenica insomma più che una domanda era non so una riflessione grazie io secondo me devi risponderti Antonio infatti stavo per inserirmi perché il concetto di scena lo abita e lo pratica io abito quello dei media ma le questioni sono analoghe a quelle che tu poni rispetto al concetto di scena quindi poi magari mi aggancio per dire una mia cosa sì la questione che le pone ritorna ritorna spesso ritorna spesso fra l'altro anche nei corsi di teatro all'università dove insegno io la risolvo così sì è vero che lo lo spettacolo la scatola scenica e la performance in generale dagli anni 60 in poi è sempre stata multimediale nel senso USAM è un mezzo misto beh forse la svolta che c'è stata con la computazione quindi con la tecnologia è che la computazione permette una si basa sulla interoperabilità dei dati cioè quindi dei contenuti e questo produce all'interno della performance una direzione che è intermediale piuttosto che è solo multimediale ma devo dire che da qua si apre la questione io me la risolvo così a lezione in modo che almeno abbiamo una via sì torniamo un po' all'idea di inter più che di multi c'è un salto che diventa quantico quando questa storia qua non la vedi tanto nel concetto ma la vedi ad esempio nella scrittura di cui Vanessa è molto esperta e le facciamo fare questo nel nostro università scrivere questa interoperabilità questa interattività è molto diverso da scrivere quando tu ti trovi solo a far dialogare delle cose ma quando queste cose non sono solo dialoganti ma sono interagenti la scrittura diventa un'altra storia e quindi gli attori che agiscono quella scrittura attori non solo nel tuo senso letterale ma attori cioè sono anche le macchine che diventano attori diventa un'altra storia che non è ancora scritta che si sta scrivendo e gli studenti lo sanno bene ci sono degli studenti qua buongiorno sono Massimiliano io aggiungerei pratiche artistiche tra scienza e tecnologia e benessere benessere perché le pratiche artistiche noi io rappresento un'associazione di persone con una patologia importante e quindi noi nelle pratiche artistiche e nella tecnologia troviamo benessere quindi stiamo bene e quindi ci dovrebbe essere molta più tecnologia e molta più arte che vi avreggessero insieme per far sì che ci fosse una sanità diversa una sanità che ascolti l'arte che ascolti la tecnologia grazie grazie ma posso provare di rispondere lei ha sicuramente ragione tra l'altro faccio fatica a individuarla perché abbiamo questi fari che ci verissimo questo discorso io faccio parte proprio qui a Torino c'è un un gruppo di direi più che scienziati alcuni sono medici altri lavorano nel campo tra cui anche Vincenzo Guarnieri che ha collaborato con Vanessa che hanno costituito un gruppo sulla comunicazione della scienza e il lavoro che è stato fatto ogni anno insomma facciamo un lavoro io faccio parte di questo gruppo che si chiama Frame supportato dal San Paolo di Torino sulla rapporto medico-paziente che e quindi anche sul discorso del benessere sulla comunicazione che sulla comunicazione della scienza che abbiamo visto questi anni è stata abbastanza difficile e in particolare io sono in qualche modo un po' un pesce fuori d'acqua in mezzo a questi che sono ricercatori oppure medici oppure sono scienziati perché mi occupo di arte ma mi hanno chiesto proprio questo cioè come è possibile introdurre anche questa dimensione per far sì che appunto le tecnologie non siano soltanto qualcosa di freddo spesso noi usiamo nuove tecnologie nuove tecnologie smettiamo di usarle perché le usiamo dagli anni 90 insomma ormai tutto è tecnologico questo microfono il computer tutto è digitalizzato ecco proprio per fare in modo che siano più una dimensione come si dice umana perché noi ovviamente abbiamo il corpo ci esprimiamo con il corpo soffriamo quando questa espressività viene meno lo abbiamo fatto durante questi due anni di pandemia in cui è passata soltanto l'informazione visuale visivi acustica non lo stringersi la mano il darsi la pacca sulla spalla il leggere il che so dalla postura del corpo oppure dal volto quello che sta provando l'altra persona ecco questo è un campo di ricerca secondo me fondamentale abbiamo ancora cinque minuti mi fanno segno quindi una domanda molto breve volevo chiedere dal punto di vista di noi ingegneri per esempio ogni esperimento scientifico può nel senso io quando vedo opere d'arte che ispirano tecnologia per me qualsiasi esperimento scientifico può avere può essere quell'esperimento quello esperimento che da proprio per me può essere arte no però volevo vedere dal punto di vista di uno esperto cosa vorrei cioè quale caratteristica divisiva possiamo definire cioè possiamo come possiamo definire un una cosa tecnologica un esperimento tecnologico un'arte e quale caratteristica che lo distingue cioè che cosa è che fa questa divisione che una cosa dal punto di vista degli esperti è arte l'altro non è grazie bello allora lei ha toccato un tema assolutamente gigantesco nel senso che cioè di fatto ci chiede che cos'è arte allora io mi occupo mi occupo di del rapporto arte scienza tecnologia da tantissimi anni quindi mi sono preparato tutta una serie di risposte perché poi rispetto a quello che facevo vedere moltissimi me lo hanno chiesto allora intanto intanto è un tema da cui noi non usciamo perché perché arte è ciò che una società decide che sia arte no quindi sostanzialmente la ruota di bicicletta di Duchamp l'orinatoio di Duchamp che è un orinatoio diventa arte perché di fatto viene decontestualizzato viene messo in una galleria d'arte quindi se la banana di Cattelan l'orinatoio di Duchamp la ruota di bicicletta vengono citati all'interno di riviste d'arte inserite all'interno di gallerie d'arte mostrate all'interno di musei d'arte e la cultura ha deciso che quella è arte c'è un approccio che proviene che si chiama neuroestetica quindi che diciamo in qualche modo cerca di inquadrare l'arte in base a delle strutture cerebrali cioè Ramachandra è uno dei teorici di questa ricerca cioè di fatto noi saremmo diciamo l'arte potrebbe essere determinata da queste strutture quindi attraverso questa dimensione potrebbe determinare ciò che è arte e ciò che non l'è questa è una ricerca che per certi aspetti è affascinante poi è coinvolto anche dei ricercatori per esempio quelli che hanno lavorato sui neuroni specchio ma si dimentica di un elemento fondamentale che è il ruolo sociale dell'arte e quindi può succedere che ci siano delle opere che vanno perfettamente d'accordo con la neuroestetica che però non vengono considerate sono del tutto non vengono considerate come arte e reciprocamente delle forme artistiche penso per esempio alla transavanguardia a queste opere brutte brutte diciamolo come brutte che invece vengono considerate arte che non che non rientrano all'interno dei canoni quindi è un terreno molto scivoloso ecco facendo giri nelle diverse mostre cioè che ho dei come si ricordi che ho adesso non posso per esempio faccio due esempi ho visto tipo in artissima c'era un un tronco che si è rotto all'improvviso perché è arrivato al livello di rottura avevano implicato la forza per farlo rompere e quello è un'opera d'arte poi magari io nel mio io ricordo altri esperimenti che magari per me possono anche simili a quello però non riesco a distinguere cosa cosa considera quello arte e l'altro no io posso e dovremo dopo dopo la risposta di Vanessa dovremo dovremo la mia sensazione diciamo più pratica questa cosa di rompere interessante questa cosa che hai detto perché la mia sensazione quando lavoro sia con scienziati che con ingegneri è proprio quella di rompere schemi allora se devo dire una cosa la mia sensazione di finire in un campo finire nel campo artistico per quanto mi riguarda però è una cosa molto personale è rompere degli schemi quando inizio a lavorare con gli ingegneri c'è tantissima come dire come se chiusura no in cui tutto deve stare secondo un certo ordine quando crei disordine caos butti la bomba del disordine questo genera delle rotture straordinarie che vanno a finire nel mondo della vita e dei sensi sensoriale e quella cosa lì per me è arte cioè finire da quell'altra cioè rompere tutti gli schemi e finire in un mondo nel mondo dei sensi no? poi estetica appunto è quello nel mondo più un mondo più percettivo e meno di schemi questo però come diceva cioè ci sono miliardi di modalità interpretative sì io credo che la sua domanda apriva una questione che noi non possiamo chiudere in cinque minuti ma in questa ora credo io sono stato felice di avere c'è una domanda ancora io io guardo guardo la regia ci concediamo ancora una breve domanda rinuncio alla domanda a una brevissima riflessione mi è capitato perché i casi della vita sono quelli non avendo un'educazione artistica fra l'altro ma più scientifica che artistica addirittura musicale molti anni fa mi è capitato di aver vissuto un po' in giro in alcuni paesi diciamo così di aver vissuto quelle che per me sono una serie di rotture cioè non c'è nella mia esperienza personale nel rapporto scienze tecniche o tecnologie arti quindi di aver vissuto chiamiamolo le conseguenze in un ambito chiamiamolo interdisciplinare perché no di quella che è stata l'impatto sui linguaggi convenzionali creativi e di vuol dire di elaborazione di pensiero di relazioni umane il matrimonio tra virgolette tra l'informatica e l'elettronica lì sono venute fuori delle materie prime come dicevamo in una situazione di cui facevo parte per molti anni che era basata alla cosiddetta billetta a Parigi sono venute fuori delle materie prime che hanno creato la signora Tatiana non si mi perdonerà se la parola è sbagliata delle rotture epistemologiche cioè si è cominciato a scrivere diverso questa cosa ha creato il nostro amico Capuccio e io siamo amici che collaboriamo insieme da molti anni ha creato dei praticatori non so come in italiano dei praticanti degli artisti diversi e come dice il nostro comune amico Derrick De Kerkhove c'erano degli altri creatori o degli altri artisti se vogliamo e un altro pubblico e degli altri luoghi cioè il rapporto adesso non voglio cadere devo essere breve lo so cioè sostanzialmente il mi scuso del ritardo l'ho sentito Pierluigi ma ci conosciamo troppo bene quindi immagino un pochino abbiamo anche molti libri con delle cose in comune dicevo ho un po' la sensazione che è vero che da una parte c'è la misura cioè chiamiamole le scienze più sono dure più sono misurabili con i loro protocolli a cominciare dalla medicina anche l'aspirina è un protocollo quindi voglio dire le arti convenzionalmente come dice Pierluigi immagino abbia detto questo non hanno protocolli e non si misurano allora quella che fu negli anni 80 quando cominciai questa mia attività in questo mondo ad oggi ci sono state diverse rotture immagino se non ho detto lo so che lo pensa che l'interattività sia qualcosa di ancestrale ma come abbiamo inteso l'interattività negli ultimi 50 anni è cambiato molte volte in maniera non lineare se poi noi andiamo alla convenzionalità del discorso artistico vediamo che il discorso artistico è planetario da un certo punto di vista ma localmente cambia molto sulle conseguenze psicologiche gravi dal mio punto di vista frequentando non sono un psicologo non sono un medico o un altro tipo di laurea alle spalle detto questo c'è un libro interessantissimo che credo sia anche in italiano adesso di una scrittrice cinese molto nota in Cina che si chiama Fang Fang però io dovrò interromperla brutalmente sul consiglio bibliografico perché credo che fra poco mi stacchino la corrente al nostro incontro la signora Fang Fang vive abita a Wuhan e ha scritto questo diario che sono le conseguenze psicologiche dell'assenza della relazione umana nella chiusura della pandemia quindi credo che lì ci sia molto sono molto contento ho finito di aver visto questa applicazione sul corpo molto interessante io sono un grande amico di Vincenzo Guagnieri quindi l'ho visto un pochino bene grazie mille grazie grazie per questa ultima riflessione io ringrazio il personale tecnico che ci ha seguito in questo incontro ringrazio ancora Pierluigi Capucci Vanessa Rozzo Tatiana Manzali e ringrazio voi per averci ascoltato alla prossima grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.